Zvideogam Youtube, Zvideogam un bigno no va bene non si può allora ciao a tutti ragazzi questa è la quattordicesima missione di quello di tutti i ghost non sapevo che iniziasse così perché non non avevo ne visto video riguardanti questa missione volevo avere la sorpresa e vedo che inizia già che mi stanno trascinando via dove mi stanno portando tutto qui grazie 11,12,52 si che sono sveglio bello avere tutta la famigliola riunita vero? eh grazie manca solo il nostro amichetto eh dov'è Keegan? sai che non ti dirò un cazzo eh no eh no forse ti farò cambiare idea no figlio di puttana ma come? Logan guardami guardami Logan si sto guardando fai vedere quanto ti fa soffrire il tuo vecchio fa sempre così lascia crepare i suoi per salvarsi il culo cazzo Rork loro non c'entrano niente lascia stare i miei ragazzi punto stai parlando con un tuo superiore tenente vada come parli non sei mai stato dei nostri non sei un ghost no forse perché sono molto meglio di te sono sempre stato meglio e tu tu ti consideri un ghost? non vali niente tu e i tuoi figli siete morti fu 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 dimenticati oh il ragazzo è ancora vivo si che son vivo lo sai che è maleducazione sparare alla gente potrebbe partire un colpo un colpo? no no che cosa vuole fai? da quella parte Rork basta basta no ma no 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 ti ammazzo capito ti ammazzo figlio di puttana ti ammazzo bastardo sono fiero di te Logan andrà tutto bene hai ragione non sono un ghost sono colui che vi dà la caccia per spedirvi all'altro mondo ma no nooo 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 sono ammazzo male e basta però eh ma cacchio ah chi 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 c'è oh arrivano i nostri non hai ragione non non le preo il si si e ci andiamo a fare un tramezzino eh, cosa c'è dietro la porta? parlano ok ricarichiamo c'è delle arme più toste? il giornale? cosa c'è scritto sul giornale? entertainment? beh niente faccio un po' di di casino vasi non si rompono infrangibile cosa c'è? e allora quei piatti lì non cadono i piatti? ah, la fisica di questo gioco dai no, non voglio scappar terra state per terra voi eh, siete troppo strategici io sono più kamikaze e ci vado incontro vasi che non si rompono ascoltatemi tutti ho perso di vista degli amici portatevi vivi o morti e sarete considerati eroi della patria cucina giapponese grazie grazie a tante pezzi di merda e' un'altra parte belle scarpe dove andiamo? di qua? fermi qui ne arrivano altri non possiamo girarli lasciamoli avvicinare prendete i proiettili prendetene tutti sto prendendo anche io dopo i proiettili no, scappa 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 no mi stavo incastrando allora clicchiamo vediamo un po' da farsi oh dove è? ma deve cavolo vado eh sì vabbè sono andato troppo avanti dai apri adesso li spacchiamo in due eh dopo le gentaglie lì vediamo un po' dove sei andato? dai 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 aiuto mi ammazzano no uffa difficile sta missione non vuoi giocare lo desert maginta eh? vediamo il cancello oh meno male eh dove è? uff uff ora è lì ah sì ecco dai non il coltello quanto manca? non molto eh me lo chiedevo anch'io aiuto a sinistra bene aiuto eh che succede qua? eh eh si abbastanza come va Merrick? sto bene andiamocene prima che gli elicotteri scoprano dove siamo eh forse alla strip potrò rimediare un mezzo per fuggire grazie oh calma quelli sono troppi per noi eh sì sa anche a me c'è Riley oh lasciate in pace Riley oh poverino povero Riley sono ferito bene qua come riparo no non guaiare Riley così poverino aiuto si prendi su io il cane Logan prendi Riley povero Riley mi scrive Bebbo e allora per scrivergli aspetta dov'è? sto salvando sto salvando il cane il cane Riley ci sentiamo più tardi ci sentiamo più tardi ciao ciao eh sono in pieno svolgimento della missione vediamo cosa scrive ok ciao a te e tutti i tuoi iscritti ho guardato ah 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 grazie èeeh allora vedi il premuto F per posare Riley forwards Poso qua Stai lì, eh? Stai buono, eh? Aiuto Porto rally? La vado a prendere ancora? E dove la vado a mettere? Ryle, dove ti metto? Metto qua? Aiuto Prendi la rally? Prendelo, prendo Ecco Sì, sì, vado a prenderla Aiuto No Eh, un attimo Non dobbiamo ammazzare questi Prima di andare a prenderla Prendi la rally Andiamo Prendi la rally Eh, ho capito Mai abbandonare i cani Ma non voglio abbandonare i cani Ma che ragionamento Ma se me lo prendo su Che dopo gli Gli sparano addosso Che cavolo è Quello è Rally F O ci pensano loro Non ho capito Come funziona Sta missione Eh, se mi sparano Che c'è il cane in mano Boh Oh, scappo così col cane Come vado con il cane? Cosa qua? Costo 6 Se volete possiamo darvi Uno strappo a casa Cazzo, sì Allora Ah Ci vengono a prendere l'ora? Dai rally Allora sei salvo Sì, sì, sono pronto Io e il cane Obiettivo completato Va bene Ciao a tutti Da SbioS84 Ha finito questa missione Ciao, 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 ciao Ciao